leggiamo un po' gli articoli e poi approfondiamo. In ordine di tempo una delle ultime notizie lette risale al 18 agosto che diceva questa cosa qua. A Milano ci sono le carceri più affollate d'Italia, al primo posto c'è San Vittore ma vi assicuro, però adesso ne approfondiremo il tema, che ho trovato articoli che già nel 2022 dicevano la stessa identica cosa quindi insomma la situazione che è avanti da tanto tempo e che voglio appunto affrontare con chi? Con Federica Valcauda che è collegata con noi. Buongiorno Federica! Buongiorno Fabio, grazie per l'invito. Allora grazie a te perché appunto Federica Valcauda, Europa Radicale, esponenti di Europa Radicale abbiamo già affrontato altre volte questo tema insieme. Appena ho letto l'articolo ho detto beh non posso non sentire Federica per capire soprattutto perché poi nell'andare a ricercare appunto altre notizie così ho trovato anche articoli di un anno fa che dicono praticamente le stesse cose anche già solo a febbraio, San Vittore il caccio che è più sovraffollato d'Italia, viaggio tra le parti chiusi volontari che non si arrendono ad esempio quindi c'è anche un lato positivo per fortuna di questi volontari che fanno tanto lavoro nelle carceri ma si può andare ancora più indietro andare a febbraio 2023 quando anche il sindaco Sala diceva condizioni di San Vittore indecenti e chiedeva all'allora Ministro Nordio appunto che risca le intenzioni che si hanno sul mondo appunto delle carceri e soprattutto di San Vittore. Allora Federica chiedo a te questa cosa la sappiamo ormai da te è un po' come la storia del cambiamento climatico, la sappiamo ma non si fa nulla cioè com'è che sappiamo? Abbiamo ormai palese questa cosa del fatto che le carceri ovunque da quanto ho capito solo in sovraffollamento, in particolare San Vittore è uno di quelli messi peggio ma come mai non si fa nulla? Cosa succede? Tu hai fatto un attimo un resoconto storico che va al 2023 io ricordo che entrai per la prima volta a San Vittore nel gennaio 2020 quindi qualche mese prima che scoppiasse la pandemia del coronavirus e già lì, già anche nel 2020 San Vittore era uno delle carceri più sovraffollate d'Italia perché San Vittore ha determinate caratteristiche, è una casa circondariale quindi diciamo è il primo carcere in cui le persone vanno quando commettono un reato in particolare a Milano e c'è un tasso molto elevato di stranieri perché molto spesso e qua la questione si lega anche ai CPR al fenomeno migratorio eccetera eccetera molto spesso quando gli stranieri commettono piccoli o medi reati la soluzione è buttiamoli in carcere e per lo più sono dentro per reati regati allo spaccio ad esempio tu come ben sai sono antiproibizionista e credo che modificare la legge sulle droghe sia uno dei primi passi per far sì che almeno le carceri non siano sovrappollate e quindi San Vittore ha queste caratteristiche che lo rendono appunto uno dei primi carceri di approdo e difficilmente si riescono a fare dei progetti continuativi ed esiste un tasso di recidiva molto alto perché è quando tu fai entrare delle persone all'interno di un luogo chiuso dove c'è qualcuno che ha commesso dei reati c'è qualcuno che invece anche è all'interno delle nostre carceri ma non ha ancora avuto il primo processo potenzialmente innocente ok sei giusto più una prova contraria no? esatto e su questo il nostro paese risarcisce ogni anno migliaia e migliaia di persone a livello economico per gli errori giudiziari che si fanno quindi questo è un problema di lunghissima data che si nasconde sempre sotto il tappeto perché parliamoci chiaro Fabio dei carcerati non gliene frega niente a nessuno più chiaro di così non potevi dirlo Federica non c'è un altro motivo comunque noi come formamentis anche forse per il nostro passato fascista che dovrebbe in realtà farci modificare quello che pensiamo in realtà siamo assolutamente manettari ecco per paura per paura che possa succedere qualcosa ma poi molti si lamentano spesso che in realtà siamo un paese troppo garantista che in realtà prima di andare in galera ne passa molti dicono così poi invece troviamo le galerie piene com'è possibile? allora io può sembrare forse un discorso radicale vuoi dire la fascista al contrario mettiamo De Andreiano ecco che dipende un po' chi sei in questo paese purtroppo questa è una verità che abbiamo visto anche con i grandi processi dove c'erano politici collusi o che avevano insomma perpetrato modalità di corruzione insomma un po' dipende chi sei in questo paese e quindi questo lo fa capire anche appunto la popolazione poi carcinale che c'è all'interno ad esempio in questo caso tu dicevi anche di San Vittore è palese un po' anche da quello forse no? certo perché se sei un migrante che arriva con il barcone a Lampedusa hai una probabilità molto più elevata rispetto a una persona come me a una persona come te di finire in carcere magari anche senza aver avuto il primo grado di giudizio in qualche modo sei già visto come socialmente pericoloso ok Federica allora questo qui è il quadro diciamo sicuramente questo quadro non c'è solo una cosa interessante Federica di tutte le chiacchierate che siamo fatte in questi anni che poi non è che tu ti limiti a fare la fotografia e a lamentarti di quello che è ma sicuramente avrete anche delle proposte quindi ti chiedo subito dopo la prossima canzone di dirci un po' quale potrebbero essere però magari alcune delle soluzioni che si possono adottare per risolvere o almeno mitigare questo problema va bene? va bene ok allora andiamo con un po' di musica e poi ancora qui con Federica Vallcauda parliamo ancora di carceri i gemmali diversi con Mary alle 8 e 22 minuti siamo ancora qui collegati con Federica Vallcauda Europa Radicale stiamo parlando di carceri abbiamo fatto appunto un excursus abbiamo fatto una foto dello scenario attuale come si potrebbe fare per non ti sto chiedendo la soluzione a tutti i mari del mondo ma come si potrebbe fare per mitigare per risolvere almeno in parte questo problema oppure se hai una soluzione totale noi la prendiamo volentieri Federica ma allora a me piacciono tantissimo le riforme però mi ci vorrebbero un sacco di minuti diciamo che a livello pragmatico sarebbe quello che dicevo prima importante cambiare immediatamente la legge sulle droghe il 30% delle persone che ci sono nelle carceri sono dentro per reati droga correlati e il 70% di questi per reati legati in particolare alla cannabis ora anche il presidente Donald Trump ha detto che è favorevole a una depenalizzazione della cannabis io non capisco perché noi dobbiamo tenere in carcere delle persone che hanno commesso ad oggi un reato ma un reato senza vittima dove insomma come in altri paesi europei si può espiare in altro modo e non con il carcere così toglieremo almeno il problema del sovraffollamento poi ci vorrebbe un'attenzione per l'ambiente carcerario quando noi entriamo in carcere vediamo che l'ambiente non è adeguato a ciò che dice l'articolo 27 della Costituzione ovvero la finalità della rieducazione hai commesso un reato ti rieduchi e poi puoi rientrare in società l'ambiente carcerario è importante così come un rapporto con l'esterno ad esempio creare un rapporto continuativo con quelle che sono le aziende del territorio dove c'è il carcere per far sì che i detenuti possano entrare uscire imparare un mestiere in modo tale che quando escono possano avere una sorta di sicurezza per essere rimessi in società perché molto spesso poi capita che una persona esce dal carcere non sa dove andare non sa che lavoro fare e quindi ti trovi Federica cosa oltretutto mi sembra che non è che tu ti stai inventando qualcosa che in alcuni carceri in realtà poi avvengono quindi in realtà si può fare si può fare penso a penso a opera ad esempio che ospita i laboratori teatrali dell'associazione Nessuno Tocchicaino dove si fa un altro tipo di lavoro ovviamente quindi i progetti che si possono fare sono molti ovvio che lo Stato invece di dire spendiamo milioni e milioni di euro per costruire nuove carceri dovrebbe dire spendiamo questi soldi per fare dei progetti per rendere l'ambiente carcerario più efficiente su questo con Europa Radicale è da fine luglio inizio agosto che stiamo facendo un appello alla RAI per fare uno speciale carcere in prima serata perché di carcere non se ne parla noi riteniamo che la televisione pubblica per offrire realmente un servizio pubblico debba parlare in prima serata di questo argomento invitando chi in carcere ci entra dai volontari agli psicologi alle associazioni che appunto entrano e sanno com'è la situazione ai garanti territoriali quindi ai garanti delle persone private della libertà personale sia territoriali che regionali quindi questo è l'appello che volendo si può anche firmare sul sito europa radicale.eu e è un primo passo anche per capire poi come andare verso una concreta riforma perché una volta che il problema si conosce del dettaglio si sa anche come affrontarlo chiaro Milano prima hai detto appunto Milano è lo stesso città dove c'è da una parte il carcere di San Vittore che è uno dei più affollati con tutti i problemi che si porta dietro dall'altra Bollate che è uno invece delle eccellenze carcerarie in Italia ma c'è anche ad esempio il risultato penitenziario minorile del Beccaria dove ultimamente insomma sembra che regalino vacanze premio perché insomma ogni tre periodo c'è qualcuno che se ne va fuori anche la settimana scorsa altri tre evasi e stamattina notizia che uno poi l'hanno ritrovato che fa capire anche a casa sua l'hanno ritrovato quindi fa capire anche l'idea che c'è di chi poi evade da un risultato penitenziario come quello del Beccaria insomma anche il Beccaria è un bel problemone mi sembra il Beccaria è un gran problemone ma è un problemone che parte da un errore del governo in questo caso il decreto Caivano promulgato un anno fa se non sbaglio è un decreto totalmente folle proprio a livello sociale perché sta facendo entrare all'interno delle carceri di minorili una quantità di ragazzi che non avrebbero bisogno delle carceri cioè è come il reato senza vittima di cui ti parlavo prima anche perché il Beccaria ad esempio dove c'erano però poche decine di detenuti fino a qualche anno fa infatti io non abbiamo avuto spesso mentire che associazioni che operano all'interno del Beccaria raccontavano una situazione abbastanza tranquilla diciamo al netto poi devo scoprire certe situazioni nate con invece andiamo avanti in questo momento la situazione è degenerata proprio a causa di questo decreto perché si è creata una situazione di sovraffollamento molto diciamo grave rispetto agli standard precedenti e quindi se tu fai entrare all'interno di un luogo chiuso nel carcere appunto un minore la gestione diventa sempre più complessa anche perché anche al Beccaria il tasso di stranieri è elevato e questo implica purtroppo che molte volte noi non ci rendiamo conto che l'essere straniero nel nostro paese significa che se non ti mettono a disposizione dei mediatori culturali dei mediatori linguistici cioè magari queste persone non sanno neanche di cosa si parla di cosa sono imputate cioè diventa diventa complesso diventa complesso anche voler avere una vita migliore se non sai cosa succede intorno a te ecco bene allora Federica ricordaci questa interessante che dicevi prima la petizione che state facendo appunto perché state facendo una bella richiesta alla televisione di Stato la televisione pubblica scusate la televisione pubblica che è interessante perché ci dimentichiamo che appunto la tv pubblica dovrebbe fare un servizio pubblico poi ci dà anche Sanremo e siamo ben felici io sono felicissimo di andare ogni anno a Sanremo a raccontarlo però è il servizio pubblico è anche altro il servizio pubblico sì è anche altro e io sono una nostalgica delle tribune politiche che non si fanno più adesso si fanno i talk show se si fa politica fare uno show della politica a me sembra una cosa abbastanza disdicevole quindi noi appunto abbiamo fatto un appello alla RAI per far sì che faccia uno speciale carcere in prima serata la scorsa settimana abbiamo fatto un presidio a Roma davanti alla RAI in Viale Mazzini ci hanno detto che la nostra richiesta è al vaglio della direzione in questa settimana se non riceveremo risposta manderemo un'altra pack e momentaneamente ci sostituiremo al servizio pubblico dai nostri canali Instagram invitando le persone che riteniamo abbiano le competenze per parlare di carcere e trovare una soluzione perché poi è importante parlarne cioè io sono un po' stanca di sentire le retoriche manettare del buttiamo la chiave eccetera eccetera che non sono solo retoriche che stanno al governo ma stanno proprio nella popolazione ebbè poi diventano parte di noi dico sempre poi chi ha il governo chi fa politica non siamo nient'altro che noi che andiamo là quindi ci portiamo le nostre cose quindi insomma lì poi sta a noi decidere chi di noi vorremmo rappresentarci Federica grazie mille davvero per il tuo intervento grazie a te Fabio grazie per il vostro lavoro ci rivediamo ci sentiamo sicuramente come sempre buona giornata e buon lavoro allora ciao buon lavoro ciao grazie mille Federica Valcaudo andiamo avanti con la musica qui su Cristian Radio Good Morning Milano poi in due secondi di pubblicità e poi torneremo qua siamo sempre qua grazie a tutti grazie a tutti